Sono Anna Morosini, sono una fotografa di Foligno e ho frequentato il Master di Alta Formazione sull'Immagine Contemporanea della Fondazione Fotografia di Modena nel primo biennio in cui è stato istituito che era 2013-2014. Sono Alice Mazzarella e grazie alla borsa di studio offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ho avuto l'opportunità di frequentare il Master di Alta Formazione sull'Immagine Contemporanea di Fondazione Fotografia Modena. Questa esperienza mi ha permesso di avvicinarmi a nuovi linguaggi e sperimentare nuove tecniche espressive che sono state molto utili per la mia ricerca sull'immagine. L'esperienza del Master mi ha sicuramente dato la possibilità di confrontarmi con professionisti, artisti, curatori, compagni di corso di alto profilo e di livello internazionale. Il mio percorso formativo si è concluso a luglio 2017 e il mio lavoro è entrato a far parte della collezione permanente di Fondazione Fotografia Modena.